Quando ne parliamo di unità soccorse da riporto, ci sono... Si è conclusa in maniera positiva l'operazione Mare Sicuro 2021, la campagna per garantire la sicurezza delle attività che si svolgono in mare e in spiaggia, messa in atto dalle capitanerie di Porto di Pesaro, Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto, durata dal 19 giugno al 19 settembre scorsi. I dati raccolti nel 2021 sono positivi rispetto al 2019 e dal 2020. Il litorale marchigiano ha richiesto oltre 300 militari, 12 motovedette, 8 battelli veloci ed una moto d'acqua, impegnati quotidianamente nel controllo delle spiagge e delle attività turistiche e balneari durante la stagione estiva. Quest'anno sono state 95 le persone soccorse sul litorale marchigiano, contro le 100 del 2019 e 106 del 2020. Tra le 95, 88 persone sono state soccorse in vita, mentre 7 sono stati decessi. I controlli sono stati oltre 15.000 ed in particolare hanno riguardato il demanio con 3.098 interventi e l'ambiente con 5.083. Per quanto riguarda l'attività di polizia marittima, i verbali amministrativi effettuati sono 204 in totale, in netto calo rispetto agli anni precedenti. Il numero più alto di sanzioni effettuate è per violazione del codice della navigazione, che sono 92. Ottimi i risultati anche delle operazioni spiagge libere e acque libere. Infine i bollini blu rilasciati sono 282, 90 ad Ancona, 92 a Pesaro e 100 a San Benedetto del Tronto. Sono emersi dei risultati sostanzialmente positivi se raffrontati rispetto a quelli registrati negli anni scorsi e questo pur in presenza di una maggiore frequentazione del mare e delle coste da parte dei turisti. Questo come conseguenza del fattore pandemico che ha portato gli italiani a scegliere di stare, di rebanere in Italia e quindi di avvelersi delle offerte turistiche della nostra nazione e nel caso nostro della nostra regione e in più quest'anno si è registrata anche una notevole presenza di turisti stranieri. La risposta, ripeto, è stata sostanzialmente positiva. I numeri registrati quest'anno sono inferiori in tutte le singole voci che ci interessano rispetto agli dati registrati gli anni precedenti. Non tanto con riferimento al 2020, hanno caratterizzato appunto dal virus, da una situazione leggermente più difficile rispetto a quella di quest'estate ma anche e soprattutto rispetto al 2019. Segno quindi della bontà della campagna di prevenzione che ogni anno svolgiamo, prima della stagione estiva e segno anche, ritengo, di una consapevole maturità raggiunta da fruttori del mare e delle spiagge e circa la necessità di rispettare le norme e soprattutto rispettare il buon senso. Basta rispettare il buon senso, rispettare le esigenze di chi ci sta vicino e molto probabilmente non si verificano incidenti non si verifica una situazione contraria alle norme. Ovviamente bisogna sempre darsi da fare e continuare a lavorare insieme alle altre amministrazioni che a vario titolo possono contribuire a innalzare il gradiente sicurezza per far sì che le attività turistiche che avvengono in luoghi di pregio come quelli che sono presenti nella nostra regione a queste realtà turistiche faccia da contrattare un gradiente sicurezza sempre più elevato.